Il corridoio di destra, il resto è pieno di Federico Mussini Gli ha fatti perdere nelle ultime sette Riprovi Mussini che prova ad attaccare con Fulana che si porta a casa Che va dagli altri, che prova ad accelerare proprio sicuri La stoppata Fulana, Stina che riesce a tenere il pallone Johnson colpisce, attacca in allontanamento La mente frese, lo aiuta Nicolica Che è in alla stanza Poi, faccio da coordenare per Dalmeda Non lo prende, non lo prende, non lo prende Johnson si perde un po' Poi, praticamente, c'era il disco dell'altro Simone! Regalata, è un colore gratuito che Conclusione di Nobio Ancora! 5 secondi Mussini, spazio per Johnson, lasciato colpevolmente Androneri oltre la doppia cifra, deve cercare di non tenerlo Ma, c'è l'aiuto di Fulana Presier, data 3 Si muove invece Lufusor frontale, sul ferro La correzione? No, il ribalzo di attacco di Borra Che metto Pepe riceve Il tiro Simone! Pepe! Il resto, per Lufusor che riprova la tripla! Si avvicina Borra, 5 secondi per la mia relazione Il momento di Borra, alza la palla Pepe, ancora lui, ancora Pepe, Simone e Pepe Chi è? È Simone e Pepe Ma, c'è il rimbalzo di Borra Che lo dà Fuori misura, no! E' attico E' attico E' attico Borra Prova spazio Dove... Ovviamente In questo momento avrebbe veramente bisogno dell'incitamento dei tifosi Ma intanto Fermi Presier Prova ad attaccare Arresta il tiro Presier Meno uno 44 secondi Presier attacca Arresta il tiro di JJ Fuori misura C'è il rimbalzo di Borra Che lo dà A Nikolic Non va Rimbalzo Non va E' finisce Finisce